. Uomini e donne News, l'ex corteggiatrice Sharon Bergonzi è incinta. News Uomini e donne, che fino ha fatto Sharon Bergonzi? È incinta. . Altra cicogna in arrivo a Uomini e donne, Sharon Bergonzi è incinta. L'ex corteggiatrice di Andrea Cerrioli è in attesa del primo figlio dal marito Valerio, sposato solo un anno fa, più precisamente il 28 dicembre 2016. . Proprio tra le righe della dedica al ragazzo per il primo anniversario di matrimonio, la ragazza ha annunciato su Instagram di essere in attesa di un bambino. . Come si legge negli astag usati da Sharon, la gravidanza è giunta al quarto mese. Dunque, la Bergonzi ha superato i fatidici tre mesi , e ha rivelato a tutti la bella notizia. . Un sogno che si realizza per la ragazza di Formicola che, come ribadito più volte alla corte di Maria De Filippi, ha sempre sognato dei figli. . Ora il desiderio diventa finalmente realtà, il parto è previsto per il prossimo maggio. . . . . Un anno di noi, aspettando il regalo più bello che il signore ci manderà, Cancelletto wedding Cancelletto un anno di noi Cancelletto il regalo più bello del mondo Cancelletto baby Cancelletto pregnant Cancelletto quattro mesi ha scritto Sharon Bergonzi su Instagram, riservando parole dolci e intense per il marito Valerio sposato solo dodici mesi fa. . . L'uomo che le ha completamente cambiato la vita dopo la partecipazione a Uomini e Donne. . Dopo il rifiuto di Andrea Cerioli che prima ha lasciato il trono classico e poi si è affidanzato con Valentina Rapisar da Sharon ha conosciuto Valerio. . Tra i due è stato subito colpo di fulmine e nel giro di poco tempo hanno deciso di sposarsi e mettere su famiglia. . . Tanti auguri. .